ciao a tutti nesini siamo qui in un nuovo video allora mi è arrivato un altro pacco da mods for you questi li ordino di solito un mese tre settimane prima e poi mi arrivano e mi è arrivato come al solito dentro a questa adorabile bustina ormai ne ho un sacco di queste bustine però sono sempre tutte tutte carine con cagnolini gattini kawaii troppo carino e stavolta mi sa non mi hanno mandato neanche il bigliettino comunque il sito si chiama appunto mods for you con scritto 4 e aspettate ve lo faccio vedere ce l'ho qua uno tanto ecco questo qua è il sito e io mi ci trovo bene perché comunque hanno dei remand e delle blind box a prezzi buoni e anche squishy anche slime hanno un sacco di cose di cartoleria carinissima cioè veramente veramente belli comunque passiamo all'apertura tanto gli altri miei video immagino li avrete visti se no li trovate sul canale allora oggi ho preso solo due cose più l'omaggio allora l'omaggio è questo stavolta che ho preso e è veramente adorabile è una specie di porta fortuna se non sbaglio e è fatto con questi maialini guardate che carino andiamo a vedere come è fatto sono troppo curiosa eccolo il bigliettino poi l'ho messo qui dentro carino allora vediamo ah beh i notepad cioè tipo i memo pad mi hanno mandato questi qua e questo credo sia una specie di porta fortuna boh comunque sono carinissimi sono degli sticky notes che a forma di maialino perché è l'anno del maiale e quindi insomma hanno fatto a questo tema carino carino è un omaggio in più che vi mettono in ogni ordine scegliete voi quale poi ho preso questa e questa e basta allora sono due riment di dei pokemon e di rilakkuma sono veramente adorabili allora iniziamo da rilakkuma allora sono praticamente dei personaggini dentro a delle tazzine con fiori infatti si chiamano flower tea cup quindi tazzine da tè con fiori e la scatola è fatta così allora il prezzo mi pare che costasse sugli 8 euro una cosa del genere però è il prezzo normale per un riment e abbiamo allora questo qua con rilakkuma e la tazzina rosa poi c'è scritto anche allora non riesco a leggere troppo piccolo carnation and margaret credo sia poi abbiamo margaret and tulip cioè margherite e tulipani poi abbiamo questo qua con chiro i tori che è scritto gazania e pom pom nam non saprei vabbè comunque sarebbero i soffioni in pratica e poi abbiamo questo qua con le fragole e che c'è rilakkuma e chiro i tori e c'è scritto strawberry and ranunculus ah i ranuncoli ok poi abbiamo chiro i tori e cori lakkuma c'è scritto lily of the valley and rose quindi lilla e rose blu e poi abbiamo sweet pea and peony quindi peonia e tipo pesca dolce una cosa del genere e ci sono appunto quest'altro orsetto che non so il suo nome perché è uno dei personaggi secondari e poi cori lakkuma che fanno una specie di irlanda di fiori ma sono tutti adorabili non so qual è il più carino ma sono tutti molto molto carini quindi andiamo ad aprire ditemi nei commenti quale quale vi piace di più spero di non fare danni ma già ho rotto tutto allora vedo dei fiorellini rosa oh che carina allora abbiamo trovato aspetta che qua c'è anche ho finalmente il foglietto che ci dice come montarlo perché gli altri non li hanno di solito abbiamo trovato mi sa questo qua con margaret and tulip quindi tulipani e margherite rosa con il lakkuma ma quanto è carino cioè adorabile allora andiamo ad aprirlo bella con la caffettiera ma è tutto un servizio da te uguale non ci avevo fatto caso quindi quello sul celeste sono due tazzine più la caffettiera la tegliera scusate e oppure le due tazzine rose la tegliera rosa carino non ci avevo fatto caso allora questi e questi ora li vado a montare anzi prima di montarli vi faccio vedere i vari pezzi così li vedete meglio allora abbiamo questa che è la tegliera molto carina semplice ma molto carina e qua dentro c'è l'acqua poi abbiamo le margherite che sono tutte diverse come mold anche questa poi abbiamo i tulipani molto belli rosa e arancio e poi abbiamo corrilla kuma con un'altra margherita in mano che credo stia tipo strappando un petalo si sarà tipo freddo mamma non mamma cosa del genere carinissima no comunque mi ero emozionata troppo presto cioè foglietti di un'inutilità assurda cioè margherita 1 1 2 3 4 sì certo ma dove vanno in quale in quale buco sì ci sono dei numeri ma non corrispondono a tutti i fiori quindi è comunque inutile vabbè eccola bo spero di averli messi bene non sono proprio identici a come sta qua in realtà perché dovrebbe stare tipo qua però non so dove metterla se no posso provare a metterla così ecco forse così va bene però cade non lo so cioè sono veramente difficili da montare questi rimant non so proprio come montarli perché non ci sono delle istruzioni appropriate comunque a parte ciò è veramente adorabile come come set diciamo è molto molto carina e molto dettagliato come al solito rimente sono stupendi quindi questo l'abbiamo fatto adesso passiamo ai pokemon allora questi qua sono quelle serie in cui ci sono dei pokemon che tengono delle degli oggetti da scrivania quindi penne mollettine oppure elastici eccetera e questo trovavo che fosse una serie molto bella perché ci sono dei pokemon parecchio belli qua nella serie allora abbiamo totodile abbiamo cicorita porigorn poi abbiamo dragonite poi abbiamo il solito pikachu poi abbiamo oh oh lukia e lui non me lo ricordo mai come si chiama aspettate che ci provo a ricordarmelo no non mi viene il nome vabbè ditemelo nei commenti tanto mi verrà sicuramente dopo che ho finito il video comunque tra tutti questi allora mi piacciono quasi tutti diciamo praticamente quasi tutti sì però i miei preferiti sono i miei questi tre e questi due ditemi nei commenti quali sono i vostri preferiti comunque sono tutti molto belli quindi andiamo a vedere vediamo no no non ci posso credere allora vedete che mi perseguita pikachu cioè dopo uno non ci crede però è vero mi perseguita cioè di tutti questi proprio pikachu mi doveva capitare dai raga mi perseguita pikachu non ci posso credere vabbè andiamo a vedere che peccato però saranno dei pokemon veramente belli invece mi è capitato pikachu ditemi se mi perseguita pikachu dai hashtag nei commenti pikachu lasciala in pace comunque eccolo vabbè bello è bello cioè non è che è fatto male è fatto molto bene è carino è anche abbastanza grande devo dire però certo con tutti i pokemon belli che c'erano mi poteva capitare o lugia o dragonite cioè anche porigorn mi piaceva un sacco chicorite è uno dei miei starter preferiti e niente mi è capitato pikachu pikachu guarda lo è pure arrabbiato guarda mi sfotte è così vabbè allora montiamolo ok eccolo qua guardatelo come mi sfotte beffardo no vabbè a parte scherzi comunque è carino è fatto bene e queste figure sono sempre molto dinamiche molto dettagliate quindi cioè veramente fatto bene e qua ha tipo appunto il fulmine a forma di ragnatela molto bello devo dire cioè è fatto veramente bene non so se ne prenderò un altro ora ci ci penso ci penso su e vedo se magari c'è ancora sul sito forse un'altra ci provo però ecco fatemi sapere se se vi piace ok questo è tutto fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti e qual è stata la vostra cosa preferita io devo dire che questo mi è piaciuta tantissimo però comunque anche se è il solito pikachu è fatta molto bene la figure quindi non ho nulla da dire in proposito è fatta molto bene se vi è piaciuto come al solito vi invito a lasciare un bel pollice in su a iscrivervi al mio canale a partecipare ai miei giveaway e dirmi nei commenti quali sono state le cose che avete preferito e quali avreste invece voluto trovare voi noi ci vediamo al prossimo video vi mando un grosso bacione un salutone e alla prossima ciao